E ancora Danilo Danapoli, vostro assiduo telespettatore, vi seguo con vero piacere vista la competenza con la quale affrontate i temi che vi vengono proposti. Vorrei chiedervi una cosa, è il caso di far riposare qualche giocatore azzurro che non sta arrendendo come probabilmente ci si aspettava? Valentina, secondo ti amo far riposare qualcuno? Ma forse sì, sarebbe il caso, no? Tu hai qualche nome di qualche stanco? Qualcuno è stanco? Campagnaro? Aronica? Sì, magari lo voglio. Hiller? Sì, Hiller soprattutto. E su Hiller, vabbè, pronto? Poi subito presentiamo la cantante, una telefonata, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Ci dica. Sono Marco. Marco vai, dici la tua. Allora, per rispondere al sondaggio, volevo dire che secondo me il Napoli è grande contro le grandi perché penso che in quelle partite le motivazioni vadano a mille, non c'è altra spiegazione. E poi volevo dire che dopo aver visto la partita di ieri, consigliando che c'è tutto un girone di ritorno, con un po' di fortuna, sperando che le altre davanti possano ravventare, io credo che quel terzo posto che all'inizio di stagione era l'obiettivo dichiarato sia ancora raggiungibile. Va bene, grazie, sei ottimista. Però vi posso dire, prima della cantante che è pronta, ma sentite un po' chi ha detto Cannavaro e Ranieri, perché poi tutto sommato noi abbiamo vinto e Cannavaro ha detto, ma che volete, avete visto? Lui vincimmo. E se scordi che è successo prima in tuo campionato. E Ranieri poi ha invocato un po' di rigori, un po' di severità, non c'è stato equilibrio. Sentiamo le interviste a Cannavaro e un flash su Ranieri. Sì, è stata una bellissima vittoria, meritata, contro un Inter che il primo tempo aveva adottato il modulo che noi tanto odiamo, quello di difendersi. Poi il secondo tempo hanno iniziato a giocare anche loro, ma noi abbiamo dominato la partita e quindi credo sia giusto il 2-0. Non si è neanche preso gol? Che nelle ultime 8 era diventato un tormentone. Però anche stasera noi abbiamo fatto le stesse partite di sempre, c'è stato qualche errore in meno magari da parte dei singoli e quindi Morgan una volta ci ha messo in una grande pezza. Quindi è stato il Napoli che tutti eravamo abituati a vedere. La delusione c'è nel risultato, abbiamo fatto una buonissima gara contro un buon Napoli, c'erano due rigori, uno è stato dato e uno non è stato dato. Peccato, peccato perché avremmo meritato qualcosina di più. Però il calcio è questo, domenica sera non abbiamo fatto una gran partita e abbiamo vinto, stasera abbiamo fatto una gran partita e abbiamo perso. Il calcio è questo e bisogna accettarlo. Il rigore non c'era, il filmato della Rai, non il nostro, si è visto eventualmente che era fallo fuori aria. Prego. Ma ha dimenticato due rigori. Quelle che dovevano essere dati al Napoli, però ha visto un'altra partita. Forse quello su Cavani si può dare come non si può dare il primo, ma ce n'era uno, non so se sono d'accordo anche gli altri, su Pandem. Io addirittura a questo sorvolerei, doveva cacciare la Rai. Sì, l'espulsione su Carcampi. Sì, l'espulsione su Carcampi, è stata una cosa ignobile proprio. La frase finale poi è stata bella, perché lui ha detto questo è il calcio e lo dobbiamo accettare. C'è da discutere su questa frase, no Pasquale? Credo, l'unica cosa che ripeto mi preoccupa è quel quarto d'ora, perché il primo tempo l'Inter ha messo in campo una squadra, ma proprio i giocatori pur, abbiamo visto sulle fasci, i soliti giocatori dell'Inter che spingeva, ha messo in campo una squadra. Che è andato un po' a rileggio. 20 minuti che l'Inter ha giocato, ricordiamo Milito, solo davanti al portiere, ricordiamo, rigore più o meno, e ricordiamo quelle tre azioni che De Santis ha superato. Possiamo fare un applauso a De Santis? Noi di Propoli Azzurri abbiamo proposto per una giornata De Santis capitano, perché sembra attaccato su capitano De Santis. Quindi c'è bisogno di recuperare soprattutto quella linea difensiva, ma soprattutto affrontare quella grande assenza di pazienza al centrocampo, se non c'è Gargano che copre, corriamo dietro gli avversari. Non sappiamo che fanno. Io ricordo in Napoli nell'anno precedente che frontalmente li affrontava gli avversari. Quando si fanno gli applausi al portiere, è cattivo sì. Ah sì, va bene, però si andavano quei gol dentro, era un segno ancora più cattivo. Io vi interrompo un attimo perché è il momento della nostra ospite musicale, ha studiato canto fin dall'età di dieci anni con il maestro Gianfranco Caliendo. Ha avuto varie esperienze televisive, tra cui Festa Italiana sul Rai 1 con Caterina Balivo, e il suo motto è La musica è intorno a noi, non bisogna fare altro che ascoltarla. E con noi questa sera, Tonia Madonna! Ciao Tonia! Ciao Tonia! Grazie, grazie a tutti voi! A proposito di Caliendo, noi qui abbiamo avuto Giada, eh? Sì, Giada Caliendo, che tra l'altro conosco, è la figlia del mio maestro. E che dire, è un piacere immesso stasera essere qui con voi, e vorrei presentare il mio nuovo singolo, che tra l'altro è stato scritto da Ciro Troiano e per le musiche e gli arrangiamenti Patti Marotta. Il titolo? Maschere! Maschere, prego! Tonia Madonna! Grazie! Sento dentro me tutto il peso di una vita vuota ormai, Gli occhi tuoi non mentono come quei discorsi futili che fai. Penso a te, penso a te, penso a te, mi sento predo a tu, e rivolgo la tua bocca sulla mia, per quell'attimo che senti eternità. Tornerei, penso a te, 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 penso a noi, con i miei ricordi sai, Tengo a te, penso a me, per cui, con i miei ricordi che quindi vuoi riusciишla ieri, con i miei ricordi e mininini che è un motivi che farai passate. questo grido disperato implode imprigionato in me. Fammi so il sorriso tuo, ma io accarezzo quella maschera che hai. Ce lo so che la verità è quell'inutile pretesto che da tempo sta cercando per ricorrere. E per gioie fida a me, ma io ti sento e non voglio darti a lei. Ma che sia un inferno, ma che sia con te. E' una vita sola e vorrei viverla con te, magari viverla per te. Fino a me, ma che sia con te. Fino a me, ma che sia con te. E' una cosa, eh? Emozionata, emozionata. Fino a me, ma che è il singolo che anticipa il tuo prossimo lavoro discografico. Sì, il mio prossimo lavoro discografico, sempre con Ciro Troiano e Patti Marotta. E poi volevo ringraziare Nello Pennino per il videoclip che ha appunto girato. Tra l'altro Nello Pennino è proprio il regista di Gigi D'Alessio. Ci tengo a ringraziarmi. Dico di un applauso, va bene, grazie a te.